Un patto di mediazione che sia un patto di crescita e stabilità, un patto che non sia peggiore di quello dal quale stiamo uscendo, che è stato sospeso in questi anni, un patto che permetta veramente di favorire la crescita del nostro paese e non sia dannoso per l'Italia. Il ministro Giorgetti sta lavorando bene, difendendo l'interesse nazionale e vediamo cosa si potrà fare. Noi vogliamo firmarlo, questo patto non deve essere un patto dannoso per il nostro paese. I patti a livello europeo devono andare bene a tutta l'Europa, non a alcuni paesi sì e ad altri no. Quindi non troppo rigore, flessibilità e aiuti alla crescita.